Signore e signore, vi vogliamo richiamare la vostra attenzione per quella ritenzione di sicurezza di quest'area mobile. Leggo il dono di un'erlazione di un'erlazione di sicurezza di quest'area mobile. Osservate come l'acciaio e rispettare le cinture di sicurezza. E attenzione a un'autofasso al pazzo orcibale. L'assistente di volo vi mostrerà l'ubicazione nell'uscita di emergenza. Localizzate quelle più vicinavole, un sentiero luminoso più pochino e faciliterà la loro individuazione. Il cabinet attorno will demonstrate the position of knowledge as the exit. Clip number one, as to you, your ladder in the escape path will guide you to the exit. L' tooko le Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.